Siamo pronti per questa nuova giornata, che diti? Vamos alla scoperta della Germania. Andiamo alla ricerca del centro storico. Amicizie qua. Ce l'abbiamo con i bambini nella fontana. Perché non lo cagano di strisci o lui ci rimane male. Andiamo, basta, è rimasto male. Ripartiamo. Andiamo con i bambini. Andiamo. Sotto. 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 ma che bello ciao 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 amore vedi i voci ciao anche a te ma che cos'è questa storia che troviamo questi gattoni ciccioni affettuosi ma che sono uno più bello dell'altro ciao amore questo gatto è un po da danare però guarda qua il pelo che perde questo ragazzo è bellissimo